E' una favola stramba quella che vi voglio raccontare. Allora, un giorno, a un cittadino serio ed esemplare, abbandonato da tutti, ma soprattutto dall'intero suo paese, sapete, un precario, un single, certo, non può permettersi una fidanzata, tantomeno una moglie, e poi di figli neanche a parlarne, troppo lusso, oberato dai debiti, capitò un fatto strano la notte di Capodanno. Dopo aver consumato il suo misero pasto, non gli favorì certo la digestione e il discorso che gli fece della televisione, come la consuetudine, il Presidente della sua Repubblica, troppo zuccheroso, bisogna essere solidali, buoni, deve essere un anno di pace, di dialogo, bisogna smorzare i toni della polemica, bravo lui, pensò il serio cittadino, mi viene a parlare il giorno di Capodanno, si ricorda di noi solo per le feste, o per la commemorazione degli Alpini, e mentre si stava per appisolare, ebro di spumanti e luoghi comuni, sentì bussare violentemente la porta. Chi sarà mai? gridò, svegliandosi di soprassalto, e andò ad aprire. E fu lì che gli apparve, in tutta la sua imponenza, lo Stato. Ora voi mi domanderete, lo Stato? Escrivilo se sei capace. Ecco, potrebbe essere una cosa così, qualcosa più di una cosa abnorme, un rutto, un salto all'indietro, con una voce femminile, più o meno, più o meno, ecco ci siamo, più o meno. Ecco, diciamo che è questo. Avete capito che non ha niente a che fare con quella figura femminile che so io tipo la giustizia, bella, anche se orba, la verità che fugge Birichina vestita da Lolita, la patria, con quel bel seno da morirci sopra mentre lei grida avanti Savoia, lo Stato. E lo Stato parla al serio cittadino. Non guadami così, lo so, ce l'hai con me, mi hai cercato tanto, mi hai sempre rispettato, ti sei anche sacrificato per me, io cosa ho fatto? Ho incominciato a essere sempre più assente, lo so, lontano, e poi sia giusto, Dio, ti ho abbandonato, ti ho lasciato tutte le bollette da pagare, a chi poi? A me. Che contraddizione questa vita, che farabutto che sono, ma ora, ora ho capito, voglio tornare a vivere con te, lo Stato deve stare con il cittadino, non la deve mai lasciare, e il cittadino deve vivere per lui, in lui e con lui. fammi entrare, dammi una tazza di tè, così fece il serio cittadino, e mentre lo Stato era seduto sul divano davanti alla TV, sorseggiano il tè, il cittadino rimase un po' sconvolto, nel vedere le peripezie che lo Stato faceva, mentre beveva il tè, si rilassava, non era un cane, ma abbaiava, non era un hot dog, ma ruttava, non era un mostro, ma spaventava, poi, lo Stato cambiò, per la quidicesima volta, torna di voce, e riprese a parlare, sai sto tanto male, devi aiutarmi, la gamba, vorrebbe dare un calcio alle paure opportunità, e invece la prende sempre, capisci dove, il braccio sinistro anticipa, per la mente un'avviso di garanzia, e quindi un infarto, lo stomaco, sembra un gommone, in mezzo all'acido gastrico della nostra crisi, ci sono quelli che dicono che la crisi non c'è, quelli che invece dicono che me genererà, e io soffro di indigestione, oppure la cervicale, che a guardare sempre in su, facendo finta che la mafia non c'è, rimango bloccato, che il caffè ho smesso di prenderlo, da che ho saputo, che poi c'è questa andrangheta, che mi si insinua dappertutto, all'inizio pensavo fosse un difetto della punta dello stivale, ma adesso mi arriva fino al colletto, capisci, per non parlare della faccia, l'ho cambiata così tante volte, che mi sta cascando a pezzi, come un lebroso, non riesco a muovermi, appena mi muovo dentro di me, sento non tanto i sensi di colpa mai avuti del resto, ma ho una voglia incontenibile, di andare in bagno, prima di muovermi, devo sempre liberarmi di qualcosa, quindi appena mi muovo, tutti che dicono, è colpa dello Stato, è colpa dello Stato, allora non mi muovo, faccio l'assente, ma io sono nato repubblicano, a proposito, anche lì, può un corpo laico e repubblicano, come me, tollerare proprio qui, all'altezza del linguine, uno Stato pontificio? È come avere le morroidi, solo che per rispetto, ce l'ho davanti e non di dietro, ti prego cittadino, mio diletto, chiama un dottore, mi sento venire meno. così il cittadino fece, il medico arrivò e visitò lo Stato, il medico non poteva fare a meno di andare in bagno, ogni volta che cercava di toccare qualche parte dello Stato, era un momento abbastanza, splatter, sia per il cittadino, sia per lo Stato, che imbarazzato e forse in procinto di un delirio febbrile, scalciava, schiumava, nemmeno la ragazza dell'esorcista, era mai stata così vicina a uno schifo totale. Poi, terminata finalmente la visita, il medico prese da parte il cittadino e approfittando che lo Stato si era addormentato, chiaramente russando a squarciagola, così gli parlò, doveva essere sincero con lei, guardi lo Stato ha pochi mesi di vita, la metastasi del suo male è dovunque, però se lei seguirà i miei consigli, vivete insieme, vero? Una convivenza, rispose il cittadino, lei deve essere inappuntabile, deve, diciamo così, servirlo dalla mattina alla sera, deve renderlo sereno, perché lo Stato va detto e sotto stress, la causa del suo male è l'eccesso di stress, deve accontentarlo in tutto e non contraddirlo in niente, gli deve far fare quello che vuole, deve preparargli la colazione con le cose che lui sono più gradite e deve preparargli pranzo e cena ogni volta che ha fame, forse anche cento volte al giorno, lo Stato è insaziabile, questo lei lo sa, gli deve far vedere alla TV i programmi che vuole lui e lei si deve sacrificare, del resto i programmi chi li fa? Chi sceglie? Lei o lo Stato? Io no, di certo, rispose il cittadino, vede e mi segue allora, gli deve evitare qualsiasi discussione o diverbio con chiunque e se mai venisse qualche suo amico a trovarla, lei non deve mai dare ragione al suo amico ma sempre difendere lo Stato, guardi, guardi, è meglio se non invita nessuno, tanto c'è Facebook, al limite vada a chiamare in bagno per non farsi sentire, d'altra parte lo Stato ha i suoi segreti, i segreti di Stato, perciò non glieli chieda, lo lascia in pace, non lo angusti con domande imbarazzanti che potrebbero mettere in imbarazzo più lei che lo Stato, se lo Stato rispondesse, ma non lo farà, però nel suo Stato, lo Stato non si sa come può reagire e poi lo Stato ha bisogno di riposare, ha bisogno di riposare, mentre lui riposa, non è lei che deve poi, che so, organizzare una festa, mi ascoltire, da un consiglio, è meglio che lei non si diverta, anzi, lei non si può divertire, se a lei non si diverte, lo Stato è più tranquillo, mi permetta, mi scusi, se mi addentro un po' in quest'altro argomento, ma visto che siete conviventi, il medico è come il prete, non deve vergognarsi se entro nell'aspetto sessuale, lei è un bel ragazzo di 40 anni, lo Stato, lei l'ha visto, non è propriamente una dolce fanciulla, direi che non è neanche una fanciulla, direi che è proprio maschio, è come potrebbe essere, altrimenti lo Stato, e come tutti i maschi, può avere le sue necessità fisiche, biologiche, quando ce l'ha, a lei lo deve accontentare, tutto qui, si sente bene? Ecco, se lei rispetterà tutte le indicazioni, lo Stato, grazie alla sua dedizione, uscirà dalla sua malattia, io glielo posso garantire, guarirà, ma solo se seguirà ciò che le ho detto, punto per punto, io la saluto, ah, auguri di buon anno, mi consenta, sono molto contento che siete tornati insieme, il medico chiuse la porta e se ne andò, il serio cittadino ha preso una sede e si sardette davanti a, che russava sul divano, aspettò con delicatezza che lo Stato si risvegliasse, dopo un po', partì un concerto di suoni, movimenti, odori, parole senza senso, che dichiaravano che lo Stato si era finalmente destato e si rivolse al cittadino, hai parlato col medico, dimmi, non nascondermi la verità, cosa ti ha detto? Il cittadino lo fisso negli occhi, poi trassognato guardò in alto, guardò a sinistra, a destra, e infine in basso, poi alzò la testa, e fissando bene negli occhi lo Stato, disse semplicemente, ha detto che devi morire. Hope is the bedrock of this nation.